Prima Top 5 delle Placida Top 5 delle 5 massiche del tocco delle Placida Questa è numero uno, bua Questa è numero 12, veste Poggi, una cake, una cake, un cake Una cake, una cake Questa è numero 3, aiquito A questo, a questo, a questo, no tonto Questa è numero 4, il quadrillito eeeeeeeeeeeee Questo numero cinso è Nikito Dioront, è gay! Tutto con tu avia indispensable venezolino per il cone è gay runch runch! Dizi runch! RUNCH! Questo è il film da per mezzo, è bassa ancora più RUNCH! Dizi runch! Grazie a tutti